Jaffa, il quartiere storicamente arabo di Tel Aviv, oggi abitato anche da tanti ebrei. Si prega, si portano fiori, si accendano candele davanti alla fermata del Trama, dove ieri due giovani palestinesi di Ebron, armati di fucile e coltello, hanno ucciso sette persone e ne hanno ferite altre sedici. La polizia stava ancora finendo i rilevamenti quando le sirene hanno iniziato a suonare e decine di missili sono stati intercettati sul cielo di Tel Aviv. Noam ha carezzato la sua compagna e lacrime, ancora scioccata, testimone oculare dell'attentato di ieri. Una tragedia, ci dice Noam, è difficile spiegare lo sciocco del quartiere. Viviamo insieme agli arabi senza problemi, sono tempi difficili per la situazione generale, siamo più impariti e preoccupati. A pochi metri di distanza una moschea che ieri il ministro Bengvir ha minacciato di demolire. È stato qualcosa di surreale, riflette Nisham, arabo, nato a Jaffa. I miei bambini giocano sempre qui davanti, abbiamo vicini ebrei e non ci sono problemi. È stato l'attacco dell'Iran a traumatizzare i miei bambini. Uno non voleva più uscire di casa. Sul lungomare, illuminato ieri notti dai missili, normalmente molto affollato, non c'è quasi nessuno in questa vigilia del capodanno ebraico. E se mi vuoto, spiega Ariel, perché diversa gente oggi ha preferito stare a casa, vicino ai rifugi, dopo l'attacco. Io vengo a correre per scaricare la tensione, ma voglio restare ottimista. Pochi credono alle minacce dell'Iran di radere al suolo Tel Aviv, se, come ha promesso il primo ministro Netanyahu, Israele attaccherà Teheran. Mi sento sicura qui, dice Carolina, abbiamo una buona difesa antimissile, poi non ci penso, cerco di vivere una vita normale. Impresa impossibile per Shade e suo zio Sale, i musulmani residenti di Sheikh Nanoum, villaggio arabo, sul confine con il Libano. Siamo sotto i razzi ogni giorno, la preoccupazione è soprattutto per i nostri bambini, racconta Shade. Arabi ed ebrei vivono in pace al nord, questo è anche il mio paese in cui voglio restare, dice lo zio Sale. Preghiamo tutti i giorni per la pace.